Ed eccolo qui, personalizzato con il mio soprannome, adesso ve lo faccio vedere meglio. Io lo adoro, è troppo bello. Ho avuto l'occasione, visto che sono truccata e vestita, cosa strana perché ultimamente vivo in pigiama, per mostrarvi un pochettino che mi è arrivato da questa pagina che vi taggo qui sotto. Piccolo spoiler, adesso ve lo faccio vedere meglio.